Buongiorno a tutti. Veniamo dalle settimane di scrutini, consegna delle pagelle al termine del primo quadrimestre. Certamente è stata ed è occasione per verificare il percorso fatto e anche capire quelli che possono essere degli errori, degli sbagli, delle cattive letture rispetto a quello che sono stati i primi mesi di scuola. Sbagliare non è sempre un male, purché ci si sappia accorgere e si impari da quelli che sono gli sbagli. E a proposito dello sbagliare come un qualche cosa che può portare anche un bene, voglio raccontarvi la storia di questa infermiera di nome Isabella, qualche settimana fa, un paio di settimane fa è successo che era in macchina con la sua mamma e i suoi figli e purtroppo a un certo punto ha sbagliato strada. È uscita dall'autostrada, un'uscita sbagliata, non doveva uscire a quella. E mentre probabilmente nella sua testa risuonavano parole non proprio bellissime, l'arrabbiatura anche per aver sbagliato, per aver perso tempo, se la sarà presa con il suo navigatore, tutta una serie di idee e pensieri che avrà avuto questa donna, a un certo punto si accorge che sul ciglio della strada c'è un tir e un furgoncino accartocciato. Avevano fatto un incidente proprio da pochissimo. E cosa fa questa Isabella? Si ferma, scende dalla macchina, non aveva nessuno strumento del mestiere se non la sua conoscenza e capacità essendo lei infermiera e vede che l'autista del pulmino è riverso sull'auto, sulla guida dell'auto e perde molto sangue. E allora lei cosa fa? Interviene subito con quello che riesce, prende un pezzo di stoffa perché cerca di tenere fermo quest'uomo perché qualsiasi movimento brusco sarebbe stato fatale. E fa tutto questo fino a quando non arrivano i soccorsi, l'ambulanza e certamente questo suo intervento è stato fondamentale, non solo prezioso, ma determinante perché quest'uomo potesse continuare a vivere. Ecco, questa donna ha sbagliato strada, certamente si sarà arrabbiata, ma allo stesso modo questo sbaglio di strada è stata l'occasione per salvare una vita. Senza di lei, senza questa infermiera, senza Isabella, quest'uomo oggi sarebbe morto. Allora ogni tanto è bene ricordarcelo, non è tanto sbagliare l'elemento che fa la differenza, ma il pensare a quello che può essere corretto a partire da quello sbaglio. E anche uno sbaglio, se ci penso, se ci penso bene e se trovo magari delle modalità per correggere quello sbaglio, può essere un'occasione per un bene. E allora vogliamo affidare a Maria Ausiliatrice i mesi che ci aspettano alla fine dell'anno. Abbiamo terminato il primo quadrimestre e allora vogliamo continuare il nostro anno scolastico con la certezza che la Madonna ci accompagna e con, allo stesso modo, la certezza che anche sbagliare non sempre è un male, purché ci possiamo accorgere, correggere e imparare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E buona giornata a tutti.